Reshaping nasce come risposta a una complessiva messa in discussione dei tradizionali modelli di business sia nel mondo for profit sia nel mondo non profit. Nel for profit l'assolutizzazione del ruolo del profitto, soprattutto di breve, è una delle cause della crisi catanaria nel mondo occidentale, ma anche nel settore non profit l'attenzione sociale, la disattenzione diciamo così fra virgolette alla sostenibilità economico finanziaria dei progetti ha distrutto e sta distruggendo molti progetti sociali interessanti. La struttura di questo master nasce da una serie di riflessioni innanzitutto con il professor Vaccaro di Iese, ma anche all'interno del gruppo di ricerca che si occupa di queste cose all'interno dell'Università di Trento e della rete di contatti internazionali che c'è attorno a questo gruppo di ricerca. Il master non ha solo un contenuto accademico, nel senso come erroneamente viene inteso a volte di contenuto meramente teorico, ma fortemente concreto, anche coinvolgendo persone che sia nel mondo for profit che non profit lavorano quotidianamente su questi temi. Reshaping Economic System è un nuovo progetto di formazione di lavoro in collaborazione con i Stai Studi di Trento. Un nuovo progetto che vede coinvolti un numero significativo di imprese, profit e non profit, alla ricerca di soluzioni per l'innovazione sociale all'interno delle proprie realtà. È un progetto che ci vede coinvolti per sei incontri, fino a marzo dell'anno prossimo, con l'obiettivo di dare risposta a quello che oggi è la grande domanda, come fare business e dare un ritorno al territorio in termini di responsabilità sociale e in termini di innovazione.